La seduta del 22 ottobre Per pagare i debiti della pubblica amministrazione Ospedali psichiatrici in Piemonte, la riforma Il 22 ottobre il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una variazione di bilancio per pagare i debiti verso il sistema economico piemontese e una delibera per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. All'unanimità ha poi approvato un ordine del giorno che chiede al Parlamento nazionale di consentire la detrazione dalla dichiarazione dei redditi delle spese sostenute dai malati di Alzheimer e dalle loro famiglie. In una pausa dei lavori l'ufficio di presidenza, consiglieri e assessori hanno ricevuto una delegazione sindacale del Politecnico di Torino che chiede la modifica delle norme nazionali che impediscono al Politecnico di assumere i precari. Nel pomeriggio l'Assemblea ha ampiamente dibattuto su numerosi documenti poi ritirati sulla crisi internazionale in Siria. In chiusura di seduta ha poi respinto la proposta di modifica dello Statuto della Regione che mirava a rendere pubbliche le sedute delle commissioni consigliari. Nella seduta del 22 ottobre il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità il disegno di legge di variazione di bilancio 2013 e pluriannale 2013-2015 per pagare i debiti della pubblica amministrazione, relatore Luca Pedrale, PDL. La procedura prevista dal provvedimento per erogare le anticipazioni delle somme previste ha riferito l'assessore Gilberto Picchetto, dovrebbe chiudersi entro novembre. Il provvedimento di oggi lo ritengo molto importante. Un'iniezione di liquidità per circa 1 miliardo e 200 milioni sul Piemonte è un fatto importantissimo. Questo vuole dire che verranno pagate delle aziende per circa 1 miliardo e 200 milioni. Questo significa salvaguardare l'occupazione e magari anche provare a iniziare a rilanciarla. È la strada giusta che abbiamo intrapreso come maggioranza e come giunta per arrivare al pareggio di bilancio. Questo è il nostro traguardo. Ce lo siamo posto, un traguardo ambizioso, un risultato ambizioso, ma che siamo sicuri di riuscire ad arrivarci. Questa variazione di bilancio noi la votiamo, anche se siamo molto critici. Il problema della risoluzione del debito commerciale si riflette e va a pesantire i debiti finanziari. Siamo comunque soddisfatti del fatto che le imprese possono avere un po' di ossigeno. È ovvio che il debito finanziario sarà gravato e non poco da 3,5% di interesse annuo per 30 anni. Era da farsi e la giunta ha fatto bene a farlo. Noi rimaniamo comunque critici sull'impostazione di fondo. Il programma per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari proposto dall'assessore alla sanità Ugo Cavallera è stato approvato a maggioranza dal Consiglio regionale il 22 ottobre. La delibera prevede uno stanziamento di 12,5 milioni di euro, al 95% a carico dello Stato, per l'apertura di due strutture sanitarie extraospedaliere nell'ex residenza sanitaria Madonna Dorotea di Bioglio a Biella e nella cascina spandonara di Alessandria.